Buongiorno Se così si può dire Abbiamo perso No, per noi perso non l'abbiamo persa la corsa Tassista di lift che è andato via Ci ha abbandonato Perfetto stronzo come si dice la merda Ecco E adesso stiamo attendendo il nostro prossimo lift Che ci porterà in quella di Hollywood L'Hollywood Palladium Per vedere le ultime novità presentate da IE Perché sono fresco e emozionante 2019 Molto bene Andiamo Siamo dentro EA Play Con Mudden Battlefield C'è Anthem L'agio in fondo Qui c'è FIFA E non so dove è Star Wars L'agio in fondo c'è Apex Non trovo Star Wars E Giovanni No Giovanni Francesca e Angelo Già sono partiti Io avrò il mio appuntamento alle Undici e mezza Ecco Giovanni Siamo dentro Il vostro Jedi Fallen Order Che sta Fallen Order qua sotto Ci hanno regalato una simpatica spilletta da collezione Con un purge trooper Eccola In lontananza Capitol Records Nella sua grandezza Magnificenza Un Ram 4 Quindi Giovanni Senza dire nomi e cognomi Questo gioco che tu hai provato oggi Come ti è sembrato? Bello Profondo? Non lo so Non lo so Agio ha provato la nuova mappa Di Battlefield 5 Come ti è sembrata questa mappa? Molto bella Anche molto ampia Era modalità conquista Ed eccoci qui sotto a Capitol Records Finalmente Mentre continuiamo a Calpestare la Walk of Fame La gente si conosce No c'era il rifondo all'inizio Uno gli altri Gli altri sono Sì un po' Si fa arrivare in Italia Allora Siamo Nel distretto artistico Degli artisti Siamo arrivati Quaggiù In fondo Dall'altra parte Di Los Angeles Quasi Siamo in fila Come si pronuncia? No Non è vero Come si pronuncia? Crackenwagen Krugenappel Krugenappel Come si pronuncia Angelo? Aspetta che non mi ricordo Come si pronuncia? Ci riprova il tizio Tu stai ripetendo il tizio che prova Il tizio Stiamo riprovando il tizio Il tizio non ce la fa Ci riprova Si è rotto i coglioni? Sei andato? Sai com'è? Allora Ci hanno dato il menù Che è un cartone Pieno di roba Non si vede Ecco Menù del guten aven Sbaglio Sbaglio Noi veniamo in America Per bere i diretti tedeschi Che abbiamo in Italia Però non fa niente Dai Noi fra l'altro Nel frattempo Che stanno Ci stanno annoiando Abbiamo fatto Desegni Abbiamo fatto Desegni Allora Non so se si può Far vedere Al pubblico Allora Non so regista Per a mettere un bollino Poi a questo C'è Tommaso Tu Famiglia Tu Perché è Rosso Rosso Io mi calo il personaggio Eccolo Color EA Play Più o meno Si mischia Bello